buonasera allora napoli 2 juventus 1 ho ricevuto su whatsapp almeno una quarantina di i messaggi per criticare allenatore io ufficialmente vi dico che allora di calcio non capisco un cazzo ma io no va bene va bene così io vi dico solo che è vero allegri la partita di si era messa come voleva lui stava 1 a 0 su una cappella un errore di manolas e ha provato a portarla a casa come come ha fatto tante volte questa volta con la giustificazione di di non avere neanche i cambi per poter cavare cambiare la partita tutto sta che stava in secondo me anche sì il napoli ha avuto il possesso palla ma io come alcuni di voi sanno ma non me ne frega niente se tu hai 60 70 per cento del possesso palle non ti importa la juve fino al pareggio del napoli non aveva non aveva avuto grande occasione il napoli per pareggiare aveva tenuto la palla cross mischia in area ma niente che potesse far pensare a un gol imminente del napoli non era un bombardamento come magari altre volte poteva essere successo in altre partite poi poi cosa succede succede che quel pippone del portiere perché abbiamo un pippone in porta e mi sono rotto il cazzo di quelli che lo difendo visto che mi piace sparare merda su all'ecchio adesso io sparo merda su quello che abbiamo perché mi dispiace perché è stato un giornalista che io rispetto molto che si chiama gianni balsarini che dice che non va bene perché questi giocatori qui prendono sono uomini hanno dei sentimenti e se te li chiami pippe si possono offendere allora caro gianni balsarini io ti rispetto a me piace tantissimo sono iscritto al tuo canale perché mi piace il modo in cui parli e i tuoi concetti però è inutile che vogliamo dire a uno che è bravo quando in realtà è una sega cesni è una sega ma cesni era una sega all'arsenal cesni era una sega alla roma cesni è una sega la juventus questo per dire che io preferivo tenermi buffona 40 anni almeno potevo dire vecchio non ce la fa più questo è una sega ragazzi è una sega stasera se non fa quella cappella lì il napoli non pareggia mai non pareggia mai ragazzi ma è possibile che la juventus a un punto in classifica dopo tre partite un punto e ne ha buttati via cinque per colpa di una pippa gli abbiamo buttati via cinque per colpa di una pippa di un portiere di merda polacco che deve tornare a giocare in inghilterra guarda giocare dove cazzo vuole però c'è un problema che prende 8 milioni di euro l'anno e te lo tieni lì perché non lo vuole nessuno nessuno neanche gratis lo vogliono sta pippa eravamo 1 a 0 a napoli con desciglio e pellegrini terzini ragazzi io non riesco a capire sarà colpa di allegri sarà la colpa di allegri che ha detto la china di di girare la palla di testa nella nostra porta sarà ciò sarà allegri che quando ha messo su e mi raccomando è quando cerca un calcio d'angolo per il napoli dacci di testa nella nostra porta sarà stato chi sarà stato allegri comunque in risposta a chi diceva che era contento che ha nato via quella sega di ronaldo che l'hanno chiamato sega ronaldo hai capito che faceva 30 gol tra cui tra parentesi doppietta anche oggi all'esordio a manchester i golli faranno kin morata di bala da quando è nato via lui abbiamo fatto un gol per disgrazia oggi in due partite me lo voglio dire comunque cosa dire questa ragazzi siamo 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 questi siamo siamo questi la partita era stata preparata anche bene non so che sono neanche cosa dire la partita si era anche infilata bene napoli aveva preso questo gol che l'aveva che aveva un po fatto smarrire e noi li abbiamo aiutati di nuovo ci siamo ci ha fatto i gol di nuovo da soli per il perso il pallone sentito fino a partita allegri che ha detto che sia nel nostro portiere che era titolare speriamo che se per caso faccia altri due tre errori che ci costano punti e cosa si mettono in testa di far giocare per i che non sarà che non è un fenomeno però una italiano e due so che è per il non mi aspetto niente di più quello che deve fare è questo ragazzi è dannoso è dannoso io penso che sia 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 ora di cambiarlo visto che st'estate dicevano donna ruma no no donna ruma no diamo scesi contenti quelli di scesi contenti tutti non so veramente ragazzi sono sono poi aspettato tre quattro ore a fare il video perché a caldo ero incazzato come una bestia perché perdere a napoli può succedere ma non così non in questa maniera qui non non così comunque per farvi vedere che non sono che non vado solo da una parte l'unica cosa che posso diciamo un po così dire max che siamo arriviamo spesso negli ultimi venti minuti sulle gambe spero sia solo una cosa di preparazione oggi poi oltretutto i cambi non c'erano dovuto mettere su anche ram 6 penso che per metter su ram si bisogna proprio che si fosse girato di e di meglio non c'era dunque dunque niente passiamo ai voti cesni voto 4 penso di aver detto tutto prima di non poter aggiungere niente 4 perché la partita l'aria aperta lui è perché un problema è un problema per la juventus e per me va risolto in fretta dunque non voglio perdere tempo ancora su questa pippa e lo quattro e scelio 55 perché perché non è più un giocatore di calcio di scelio ragazzi di scelio ora che vada che si mette nella testa che deve fare qualcos'altro è giovane può trovare un lavoro che che gli renderà in futuro ma lui non è giocatore di calcio sbaglia sbagliabatte le rimesse laterali cosa vuoi dire uno che sbaglia quando te con le mani non la passi a uno dei tuoi e ora che tetti e come se io porto costantemente un pacco invece di portarlo a chi lo devo consegnare lo porto sempre a casa degli altri ma dopo un po viene il mio responsabile c'è ciò abbiamo anche cambi lavoro che non è il tuo lavoro portare i pacchi e lui è ora che cambi lavoro deve fare qualcos'altro deve fare qualcos'altro mi dispiace decidono la juve non può presentarsi con decidito terzino a destra dispiace decidono deve fare qualcos'altro facciano giocare uno della primavera non mi frega niente decidono un po più portare quella maglia bonucci e chiellini do sei e mezzo a tutti e due perché hanno hanno retto bene osimè praticamente non ha combinato niente ma tutto l'attacco del napole non ha combinato niente dunque hanno fatto una bella partita il chiello presente anche leonardo questa sera per me ha giocato bene sei e mezzo a tutti e due pellegrini 666 ha fatto quello che ha potuto secondo me non ha fatto neanche rimpiangere alexandro tanto alexandro non avrebbe potuto fare meglio di lui perché non è in grado di fare meglio di lui in questo momento spero che prenda solo un po più di coraggio per per pellegrini e che possa dimostrare di valere la juventus anche perché comunque ha una concorrenza diciamo di basso livello dunque poco che ti impegni caro pellegrini puoi giocare costantemente quest'anno nella nella difesa di juventina forza e coraggio dell'ict che è subentrato gli edo 6 entrato sull'uno a 1 entrato in un momento dove la juve non ne aveva più non ha sbagliato niente un 6 di incoraggiamento locatelli 6 e mezzo finalmente mi ha visto un centrocampista che cambia gioco che fa anche lanci superiori i classici 10 metri canonici o l'appoggino a fianco dalle indietro non ha perso neanche un pallone si è sbagliato qualche appoggio ma alla fine forse quando era un po stanco però nel complesso una bella prestazione certo che se avesse vicino uno che fosse del suo livello probabilmente potremmo vedere un locca migliore mckenzie 5 e mezzo spaglia per me è una clamorosa palla goal sull'azzo di locatelli dove ci vuole andare con l'esterno destro che se magari ci prova di sinistro minimo prende il pallone visto che l'ha lisciato e poi comunque si crea l'occasione sbaglia qualche passaggio però corre a costanza non mi sento di dare la sufficienza ma 5 e mezzo glielo do poi passiamo all'altra prugna di giornata il buon rabbiò anche questo qui un bel voto 4 e mezzo parte che non c'entra niente col pallone anche lui dovrebbe andare con de ciglio a per me deve deve smettere di giocare con la juventus io ho sentito tutto il precampionato il mister a rabbio ha sulle gambe 8 gol 10 gol rabbio è una pipa ragazzi rabbio è una pipa rabbio sapete cosa di buono rabbio sua mamma perché lo vende ancora preso d'oro e noi siamo quei coglioni che l'hanno preso e dato e dato gli dei soldi rabbio deve smettere di mettere quella male deve stare in panchina vita natural durante il problema è solo uno che oggi mentre riccio ho detto al suo posto deve giocare poi mi son girato guardate i nomi e non c'era niente niente il nulla perché comunque ci sarebbe betancourt che è una roba che non si affronta c'è ramsey che non voglio neanche commentare io avrei tenuto ranocchi avrei tenuto fagioli ma il juventus aveva altri progetti per questi calciatori va bene comunque ne rabbio quattro e mezzo qui va davanti soprattutto sul secondo gol salta vuoto va bene si perde l'uomo nell'occasione del pareggio perché politano va bene lasciano stare un disastro sto francese francese qui un disastro davanti avessi ramsey ha messo su ramsey gli do 5 ed incoraggiamento dal buon gordon ramsey sbagliato apposta chiamarlo gordo niente potrebbe guidare la macchina che accompagna fuori rabbio ed esciglio potrebbe fare tranquillamente questo lavoro qui bernardeschi bernardeschi a me berna con tutti i suoi limiti non mi era neanche dispiaciuto però secondo me lui si perde dentro se stesso lui si perde dentro se stesso gli do un cinque e mezzo anche lui perché fa alterna cose buone cose meno buone perdere i panno palloni banali perché vuole provare a fare delle cose che secondo me non ha non le ha e crea casino ecco cinque e mezzo non di più kuruseschi kuruseschi gli do i dossier anche se ragazzi guardare giocare kuruseschi è io vorrei ma non posso ecco così sia io vorrei ma non posso cioè stop alla palla e non so neanche come faccio fermarla perché non è sgraziato che sembra non lo so sembra scusato non mi viene neanche che tipo di paragone fa è totalmente sgraziato ti dico la verità però ci prova si mangia anche il gol del 2 a 0 alla fine primo tempo che ci avesse provato a fare lo scavetto forse andate sul da zero magari non dico niente ma forse probabilmente la vittoria l'avremmo portato a casa invece non gli riesce quasi il gol non gli viene però occorre lotto ci prova gli diamo un 6 morata sei e mezzo fa gol lotta prende delle botte però sei in mezzo per il col bisogno darglielo perché il gol dell'illusione l'aveva fatto un attaccante quando ricapita la palla del fargole alvaro l'ho fatto dunque bravo al suo posto è entrato kin a chi non il votato glielo vuoi perché a me non mi viene niente in mente mi verrebbe le dali 4 ma dare a uno meno di scesni e rabbio mi sembra di offenderlo e non voglio offenderlo dunque toltilo quattro e mezzo non penso che in area di rigore si possa fare un intervento del genere comunque allegri voto 6 meno perché la partita l'aveva preparata bene gli si era incannata bene però secondo me alcune cose le deve cambiare anche sto metodo di dove le passare la difesa 3 in continuazione purtroppo non è più barzaglio caceres da poter fare questo tipo di giochino e bisogna continuare con la difesa 4 non cambiare perché da insicurezza in un reparto che già insicuro di suo e secondo me devi sperare che arthur recuperi in fretta perché almeno con locatelli e arthur e secondo me il modulo migliore che puoi fare max al 4 2 3 1 col 4 3 3 mi dispiace ma non vai da nessuna parte questa è la mia considerazione è un consiglio per il resto sto certi d'ossi in meno perché perché bisogna avere anche ogni tanto il coraggio di non passare a treno l'unica mossa che mi è piaciuta poco per il resto ragazzi cosa volete che vi dico per fortuna che martedì abbiamo già un'altra partita di champions una partita importante speriamo di non sbagliarla che finalmente arrivi prima questa vittoria ufficiale perché fino adesso non abbiamo ancora avuto questo questa piccola soddisfazione mi hanno detto a ma dai giocate col malmo fino adesso non mi sembra che napoli compreso abbiamo giocato con degli squadroni comunque faccio i complimenti al napoli per la vittoria perché bisogna fare sempre complimenti gli avversari quando ti battono faccio i complimenti faccio era io gli dico che ora di svegliarsi ragazzi è ora di svegliarsi perché va bene nel calcio nello sport ci sta non vincere però bisogna avere anche la dignità di saper perdere e noi stiamo perdendo senza dignità stiamo perdendo soprattutto qui perché basta poco per farci crollare la testa e fare degli errori che non sono da giocatori da juventus che si aspettava urli sfoghi disastri mi dispiace avervi deluso ma stasera non sono nelle condizioni proprio mi hanno cavato la forza probabilmente se avessi fatto un video caldo ci sarebbero state più parolacce ma stasera ho deciso di prendermela con calma niente alla prossima ci vediamo domani per un riassunto della giornata e niente a domani a tutti